Riccardo Iannacone ed Emanuele Rauco in diretta da Malaga in un podcast di troppo ma cosa ci fai a Malaga a Malaga io sto perché la mostra del cinema di Venezia mi ha mandato qui perché siccome ci sono le giornate del cinema come è in missione esatto siccome il ci sono le giornate del cinema spagnolo e quindi ci sono i film magari appunto i film nuovi film ancora non usciti in lavorazione non mi ha detto vai vedi se c'è qualcosa di che può essere interessante per noi e quindi grande grande Rauco come i grandi scout del calcio esatto come come cala fatta bravissimo io vado a vedere i film che ancora non sono stati scritti cioè io dalla prima pagina di sceneggiatura dico sì bello me lo prendo esatto capisco capisco tutto capisco capische le cose capische oggi si parla di quell'evento che fa vibrare i cuori di tutti noi che non è il festival di Sanremo come tutti potreste pensare che non è il Super Bowl come tutti potreste allora non mescoliamo il Super Bowl con Sanremo e lo abbiamo già detto alcune puntate fa Super Bowl minore di Sanremo e questo abbiamo già sodato togli un attimo Sanremo dall'equazione abbiamo capito Rauco non è attendibile quando si parla di Sanremo esatto ma sulla dicotomia Oscar Super Bowl non c'è assolutamente alcun dubbio e ti dirò di più ho una prova che lo dimostra c'ho i fatti a portata di mano i numeri parlano chiaro il Super Bowl è la roba più vista nel mondo ma a parte questo io non parlo solo di Mary Ascolti qual è la serie tv dell'anno l'Esto Vassa dell'Esto Vassa dell'Esto Vassa ha fermato la sua diciamo distribuzione televisiva per gli Oscar no no The Last of Us si è fermata per il Super Bowl sì sì e quindi lì hai già la risposta quindi The Last of Us non si è fermato per gli Oscar e infatti ha collezionato degli ascolti niente male quando è arrivato il Super Bowl ha detto facciamo così usciamo qualche giorno prima forse è meglio perché perché ecco rifacciamo il parlare con Sanremo mentre la musica anche se uno non è appassionato di musica che suona che però le canzoni se le ascolta e quindi Sanremo se lo vede senza problemi se non sei appassionato di cinema gli Oscar che te li guardi a fa leggi il giorno dopo la sera dopo gli Oscar se stai in America leggi che ha vinto c'è solo l'appassionato di cinema e siccome negli ultimi anni gli appassionati di cinema chiamiamoli cinefili stando ai numeri sono diminuiti è chiaro che mentre invece appunto come ti dicevo Sanremo se lo guardano sostanzialmente tutti ma perché sono diminuiti ma questa è un'impressione ti parlo numericamente a livello di impression sì a livello di impressione cioè quelli che guarda appunto calano gli spettatori del cinema calano quelli che compiano i libri di cinema tranne quest'anno ma negli ultimi 10-15 anni gli ascolti degli Oscar sono diminuiti quindi quest'anno è l'unico anno in cui sono aumentati del 12% rispetto all'anno scorso quindi immagino ma poi va anche cioè se parli cioè io quando senza andare troppo in là 20 anni fa io ero appassionato di cinema anche gli amici non cinefili però si dicevi andiamo al cinema ma sì dai tra ragazzi oggi questa cosa è più difficile sì cioè come dire mentre prima era il più grande degli intrattenimenti di massa il cinema oggi non lo è più oggi sta diventando un'altra cosa poi magari fra 20 anni tornerà a esserlo non lo sappiamo eh credo proprio sia difficile attirare l'attenzione dei giovani d'oggi infatti anche il calcio visto che ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate di un podcast di troppo sta avendo questo problema riesce ad attecchire con le generazioni passate ma quasi va ad annoiare le generazioni nuove quindi i nuovi ragazzi per questo per questo poi è nata l'idea della Superlega perché chi ha creato il concetto di Superlega si è detto magari se facciamo vedere più volte Juve Real Madrid Liverpool Manchester United probabilmente il tifoso è più invogliato a vedere rispetto che ne so a Sampdoria Juventus con tutto il rispetto per la Sampdoria e per i tifosi della Sampdoria L'appassionato di calcio però è quello che aspetta i mondiali non per vedersi Germania Argentina ma per vedersi Jamaica Giappone cioè questo è Allora stai dicendo no alla Superlega sia Valsoia no no Io sto dicendo facciamo una Superlega di squadre di merda Ah ok va bene va bene Cioè la Superlega tipo del Monza che poi il Monza è anche una bella squadra quest'anno però per intenderci cioè di squadre che strisciano nei bassi fondi e poi Juve Real Madrid si gioca ogni tanto Sì dici quel famoso trash che è talmente brutto fa il giro e diventa bello C'è una pagina su Facebook si chiama Calciatori Brutti che ogni tanto mettono le immagini cioè a volte fanno anche delle dirette delle partite dei campetti appunto terza divisione così ma sono delle robe incredibili Bellissimo Oli e Benji esiste sta lì cioè sta in Oli e Benji vive vive esiste Io mi ricordo durante il lockdown quando appunto non c'erano partite loro andavano a fare le dirette streaming di quei pochi posti nel mondo dove si giocava il calcio tipo la serie B boliviana ma era una roba di una bellezza I porchieri saltavano sui pali Sì cose di sto tipo Il campo Il campo era fatto a collina I campi Trovarne uno piatto era impossibile Era impossibile Pieni di dossi Spesso con i sassi Però era una meraviglia Vabbè Allora se tu sei d'accordo Tornando in ambito cinematografico Io leggo i winners I winners e noi ne parliamo un po' I vincitores Due annuncetti brevi No ti dico due annuncetti brevi prima di cominciare Vai Uno Abbiamo parlato di Last of Us Se siete interessati abbiamo fatto una puntata due o tre puntate fa Abbiamo parlato di Last of Us Quindi andatevela ad ascoltare o guardare se state su YouTube Mentre se volete un commento come dire più serio più ponderoso Non tanto sui vincitori ma sugli Oscar come concetto Mandate sul mio canale YouTube E trovate un video apposito Vai Rick Andrei ad aggiungere Annuncia Un terzo annuncio scusate il gioco di parole Quindi un terzo update Vi ricordiamo che noi ci avevamo visto lungo Ci avevamo visto giusto E visto che il grande trionfatore di questi Oscar Adesso lo andremo a vedere È Everything Everywhere All at Once Record Nessuno aveva vinto sette Oscar Nelle categorie principali Nessuno Sette Adesso vado a recuperare Però insomma No no guarda Credo Credo Di dire il giusto Non parlo di numeri globali Parlo delle sette categorie principali Quindi film, attore, regia, attrice, sceneggiatura e non protagonisti E visto che Everything Everywhere All at Once Ha vinto più categorie come attore e attrice e non protagonista Ha vinto tre attori su quattro Esatto Se non sbaglio È record Ovvero nelle categorie principali È il film che ha vinto più Oscar Allora Il Signore degli Anelli non ha vinto per gli attori Titanic non li ha vinto per gli attori Cioè sto pensando ai film USA Story Forse ha vinto gli attori Ma non tre No E probabilmente non ha vinto Vabbè È possibile Adesso Cerco È un record possibile questo Allora Sicuramente Tutti i record messi a segno da Everything Everywhere All at Once A24 Che è la casa che lo ha distribuito e coprodotto Se non ricordo male Perché è l'unica casa È l'unica casa di distribuzione Cioè è l'unica casa Diciamo L'unica società Che in un'annata degli Oscar Ha vinto tutti i premi principali Perché Il quarto attore Cioè Brandon Fletcher È comunque di un film E i 24 Sì Ok Questa era un'altra notizia interessante Però quello che ti dicevo Sì Dei pochi film in grado di vincere Tutti gli Oscar più importanti Come Accadde una notte Qualcuno volò sul nido del cuculo E il silenzio e il silenzio degli innocenti Sì è vero Quindi questi quattro film hanno vinto le categorie top L'unica differenza tra quei tre L'unica differenza è che lui ha vinto Everything Everywhere O la tua volta ha vinto più premi negli attori Ne ha 23 su 4 Gli altri hanno vinto però i due protagonisti Sì però stiamo parlando comunque di un record No è per dire la sfumatura Cioè se volessimo dare una quota Il protagonista ha una quota superiore Come prestigio al non protagonista Diciamo così Però A questi aggiungici anche il montaggio Che è tipo la regia bis Sì qua stiamo già entrando in un campo più da espertoni Da cinefili A noi ci ascoltano i più grandi espertoni d'Italia A me piace Mantenere la conversazione a un livello più basso A un livello più terra terra A un livello più terra terra Però stavo dicendo Se contiamo gli attori come categorie top No 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 in generale è verissimo È senza dubbio un record Stavo dicendo però 10 anni che un film non vinceva 7 Oscar Ecco ecco Quindi insomma Di solito tendevano a distribuire e a dividere Sì esatto Stavo dicendo Noi ci avevamo visto lungo E avevamo fatto mesi e mesi fa Una bella puntata Con Andrea Guglielmino Ospite per parlare proprio Per parlare proprio di Everything Everywhere All at Once E di Multiverso Esatto Quindi si può andare a recuperare Anche quella E tra l'altro Sì perché noi facciamo quella puntata Un po' perché il film veniva molto parlato Ma perché già si cominciava a sentire dall'America E c'era il profumo di vittoria E loro hanno detto Ma sai che c'è Cavalchiamo quest'onda Ok Vado a leggere velocemente la lista Vai Miglior film Everything Everywhere All at Once Miglior attore protagonista Brandon Fraser Per The Whale Miglior attrice Michelle Yeo Sempre per Everything Everywhere All at Once La miglior canzone originale Del film R R R Che si trova tra l'altro Su Netflix Se non sbaglio Natu Natu Miglior film d'animazione Film pazzesco Film pazzesco Da vedere Da vedere C'è un tizio C'è un tizio che picchia le persone Con una tigre E quindi Trash Che fa il giro E diventa bello Sì però Lo spirito con cui è fatto Che è poi uno spirito molto indiano Non è trash Cioè loro in quel senso della meraviglia Ci credono Non è come Sharktopus Lì E lo squalo assassino Capito Giusto Giusto Miglior film d'animazione E sono molto contento per questo premio Perché se lo merita Guillermo del Toro Con il suo Pinocchio Con la sua rivistazione Molto originale E Non lo so Mi viene in mente colorata È il primo termine Che mi Che mi passa per la testa Poi Miglior attore non protagonista Chi Yu Quan Direttamente da Igunis E da Indiana Jones Esatto Bello anche L'abbraccione Con Harrison Ford Tra l'altro Fammelo dire È stato il discorso Di premiazione Più bello Più intenso Più vero Si vedeva Si vedeva che era proprio emozionato Stava piangendo Addirotto Io quando ho visto lui Che prendeva la Perché poi ho visto gli highlights Dopo Lui con la statuetta Che parla alla mamma Io lì So crollato Non ce l'ho fatto Dolcissimo Io La cerimonia Degli Oscar L'ho vista tutta Non gli highlights Però ovviamente Indifferita Perché Perché siamo persone sane di mente Noi Ora mai Ora mai Il mio nome è mai più Direi Quindi non lo farò Sono concordo Poi Miglior film straniero Niente di nuovo Sul fronte occidentale Migliore regia Alla coppia Dei Daniel Quan Shainert Poi migliore attrice Non protagonista Gemini Cartis Brava Gemini Applausi Per La regina Degli slasher Dopo Il leone d'oro Alla carriera Anche L'Oscar La screen queen Gemini Cartis Poi miglior colonna sonora Niente di nuovo Sul fronte occidentale Miglior documentario Navalny Miglior cortometraggio An Irish Goodbye Miglior scenografia Niente di nuovo Sul fronte occidentale Migliori costumi Black Panther Wakanda Forever Miglior sceneggiatura originale Everything Everywhere All at once Miglior sceneggiatura Non originale Woman Talking Io questo lo voglio andare a vedere Non lo so Mi intriga parecchio Abbastanza interessante Non è un grande Vabbè poi ne parliamo Non è un grande film Ma C'ha dei momenti molto interessanti Un grandissimo cast di attrici Poi Miglior cortometraggio D'animazione Il bambino Alpa la volpe Il cavallo Che non vedo l'ora Di far vedere ad Andrea Si trova su Apple TV Lo visto oggi Tratto da un libro Che sembra sia uno Dei grandi classici Moderni Del retterratura Per l'infanzia Miglior fotografia Niente di nuovo Sul fronte occidentale Migliori effetti speciali Avatar 2 Miglior cortometraggio Documentario Ragù Il piccolo elefante Miglior montaggio Everything Everywhere All at once Miglior trucco The whale E miglior sonoro Top Gun Maverick Quindi le briciole Le briciole per Avatar Per Top Gun Ai grandi blockbuster Per Black Panther Zero Zero Oscar Sia per Gli spiriti dell'isola Che per Spielberg Che probabilmente Lo vogliamo dire Aveva cacciato fuori dal cilindro L'opera Più bella Di questa Diciamo Tornata Di Oscar Vince tutto Everything Everywhere All at once Miglior montaggio Miglior sceneggiatura Originale Miglior film Miglior regia Gli attori Quindi insomma Escluso Miglior attore Protagonista Che è andato a Frazier E la vera sorpresa Il secondo Classificato È stato Niente di nuovo Sul fronte occidentale Tre premi Fotografia Quattro Quattro Sì Film internazionale Fotografia Scenografie E colonna sonora Ecco insomma Quattro premi E anche discretamente Importanti Perché colonna sonora Scenografia Fotografia Film straniero Sono Quattro Quattro premi Discretamente rilevanti E due Per The Whale Eh ma se sei d'accordo Facciamo così Un bel giochino Ora che abbiamo fatto La panoramica Esatto Facciamo una domanda A testa Io la faccio a te Poi tu la fai a me Fino a quando non arriviamo Ad esaurimento Scorre Nostro Soprattutto Esatto Nostro E di scorre Prima domanda Sì Se le facciamo Se rispondiamo brevemente Secondo me possiamo anche farne parecchie Vai Va bene Prima domanda Everything Everywhere All at once Meritava di trionfare a questi Oscar? Ecco E questa è la domanda più complicata a cui rispondere Eh lo so Perché presuppone Innanzitutto Che I meriti di un film siano Come dire Oggettivi Sai Noi stessi appunto Nella puntata Lo dicevamo Tu quel film A te quel film ti è piaciuto molto A me A me è piaciuto molto Esatto A me il film è piaciuto molto poco Quindi Se tu mi dici Li merita Se lo devo vedere con la mia ottica Ti dico di no Eh Non solo perché non ne merita sette E In più Non è che il numero di Oscar È una roba Per cui dice È un voto Non è che dicono Allora questo film Ne ne diamo cinque A questo film ne ne diamo nove C'è un film che ne ha vintisette Non è più bello di un film che ne ha vintiquattro In quel senso Eh Assolutamente no Uno Perché dipende da tantissime cose Due poi anche Anche perché a questo punto vorrebbe dire Stando a questo gioco perverso Che i Daniel Ok Sono più bravi di Kubrick Secondo il gioco degli Oscar Capito Cioè I Daniel Ci hanno vinto tre Oscar In un'annata sola Perché Produzione Quindi miglior film Regia Regia E Kubrick Che non ne ha vinto manco uno come regista No esatto O Hitchcock Detto questo No ma anche come film Che il film dei Daniels Sia più bello di Eva contro Eva Che ne ha vintisei No diciamo Sì è un gioco È un gioco perverso E sbagliato Perché poi ogni anno Fa storia a sé Sì anche perché io per esempio Ho letto un commento Che a livello di gusto Ha trovato No il mio Assenso Il mio Il mio essere d'accordo Però poi Seguendo questo tuo ragionamento giusto Non ha ragione di esistere È un È un critico È un tuo collega Sicuramente Adesso non ricordo il nome Però ha scritto Ragazzi Ma se questo film Che è bello Ne prende sette Quanti ne dovevano dare A Mad Max Fury Road Che Tecnicamente E a livello di attori E a livello di regia Era Era molto meglio È chiaro Risposta Hai ragione Ne meritava teoricamente di più Però Asterisco È un gioco È un gioco E se stai Alle regole del gioco Devi accettarlo Le regole del gioco Dicono che quest'anno Per tutta una serie di questioni Che riguardano Hollywood Cioè Non riguardano Il cinema in generale Riguardano Hollywood Questo era l'anno In cui questo film Aveva senso Di Ricevere tanti premi Perché Perché è un tipo di cinema Particolarmente Originale Per un canone Hollywoodiano Perché È un film Comunque ecco Che noi ne possiamo dire È un film che Ha incassato Molto bene È un film Che è costato 15-20 milioni di dollari E ne è incassati Ne è incassati 120-130 Una cosa del genere E ne incasserà altri Perché sta riuscendo in sala Esatto In più conta Che visto questo tipo di successo Le vendite per le piattaforme Per l'online Li porteranno ulteriori soldi Conta che comunque È il più alto incasso Nella storia Della sua casa di distribuzione La A24 Che dicevamo prima È un film che In America Hanno amato tutti Quindi Era proprio il film giusto Al momento giusto Però A te Non ha fatto impazzire E seconda cosa Non gli avresti dato 7 Oscar Non gli avrei dato 7 Oscar Capisco Alcuni Oscar Mi sembrano proprio Il montaggio Mi sembra chiaro Che quello è un film No È un film che Tu devi mettere Devi dare una forma A 100 Come dire A 100 fili narrativi Diversi Del multiverso E lì Il montaggio Ti fa tutto Cioè se il film Alla fine è comprensibile E ne esci Con Un sentimento No Lo devi In buona parte Certo La scrittura E tutto quanto Ma lì il montaggio Viene tutto insieme Sono contento Per l'Oscar A Michelle Yeoh Che credo Che sia una delle più grandi Dive Del cinema orientale Del dopo guerra Che è un'attrice Pazzesca Oltre che una performer Cioè una Che lavora col corpo Come poche altre Attrici hanno fatto Nella loro vita Sono contento Perché Jamie Lee Curtis Perché le voglio bene Però Dal punto di vista Del critico Mi pare che sia Un film Sopravvalutato Però poi Penso che C'è anche una differenza Molto di approccio Con il mondo Anglosassone Cioè Al di là del giudizio Che posso avere Della critica Anglosassone Lì è un film Che viene molto amato E che da quando È poi stato presentato E distribuito Si capiva Che era una roba Nell'aria Che avrebbe colpito Nel segno Da europei In più Poi magari Facciamo un discorso Del genere Un discorso Che approfondisco In quel video Che dicevo Pensare agli Oscar E giudicarli Col metodo Della critica Cioè giudicarli Da critici Non ha senso Uno perché Quello che penso io È diverso Da quello che pensi te Due perché Gli Oscar Non sono dati Dai critici Sono dati Da altre figure Che ragionano In altro modo E poi bisognerebbe Metterci un asterisco Anche lì Perché si sa Che non tutti votano Non tutti vedono Tutti i film Alcuni fanno votare Qualcun altro A nome loro Se tu ti inventi Una campagna Chiamiamola elettorale Per cui Fai vedere il film A più persone Riesci a convincere Ma A più persone Che quello Che sia il bel film E lì Catalizzi più voti Anche su tante categorie E qui si rientra Nel famoso discorso È inutile che volete Credere Che gli Oscar Premino il film Migliore Gli Oscar Sono essenzialmente Politici Certo Parlano di politica Hanno una struttura Politica Hanno un modo Di votare Politico Con delle campagne Che assomigliano Alle campagne Politiche Certo Di conseguenza L'Oscar Non può essere Arte e basta E anzi spesso L'arte È messo L'arte è messa In Secondo piano Quindi Magari vincono Film belli Ma non i più belli Ok Anche lì poi No Cioè Quando dici Miglior film Cioè Migliore rispetto a che Migliore rispetto a Le posizioni di ognuno Non è come una cosa Di cento metri Oh Sei arrivato davanti a tutti Sei il migliore Lì Il film Come dire Discutere su cosa È il migliore Poi nessuno Può vincere Non c'è Qui Rientriamo in un mio Vecchio discorso I premi Esatto In un mio vecchio Credo L'ho scritto anche sotto un tuo post facebook C'è questa mania Degli appassionati di cinema I famosi cinefili Come dicevi tu prima Questa mania di dover Trasformare l'arte E il cinema in uno sport Hai detto tu bene Uno corri cento metri È una competizione Il più veloce Vince Medaglia d'oro Primo Idem nel tennis Uno contro uno Torneo al Wimbledon Il più forte Li fa fuori tutti E vince il Wimbledon Come nel calcio E lì è una questione oggettiva Cioè E lì è una questione Esatto Dice che tu sei il migliore Esatto E lì è una questione oggettiva Ai turni Ottavi Quarti Semifinale Finale Li batti tutti Vinci L'arte non può essere Così L'arte non è sport Ma non è così Punto La facciamo diventare così Perché è un gioco Che aiuta Per divertirci Aiuta l'economia Esatto Esatto Lo trasformiamo In un gioco Basta che poi Non ci si arrabbi Non ci si incazzi Perché E ribadisco Perché Dire o scrivere Io tifo Per Everything Everywhere All at once Poi se non vince Mannaggia voi Bastardi Don Blotto Scantalo È sbagliato Sono svegliato Stamattina che ero proprio Incazzato Esatto E arte E cazzati se non c'è I soldi per pagare la bolletta Per dire E arte È arte L'arte viene Come ha detto bene Emanuele Messa in gioco No? Si confronta Per degli scopi utili All'industria stessa del cinema Ma non ha senso arrabbiarsi Per esempio Mi ricollego anche alla domanda E do una mia breve risposta Everything Everywhere All at once A me è piaciuto È un film che mi ha divertito Un film Un film comunque brillante Scritto bene Con questa dinamica Madre figlia Che poi è la dinamica Più importante dell'opera Che è ben Che è ben centrata Spettacolare Con i duelli Un film di quel regista Bravissimo Anderson Se non sbaglio Il Roy Anderson Roy Un piccione Seduto sul ramo Riflette sull'esistenza Di Roy Anderson Bello Bello Molto 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 Quindi io ho apprezzato molto Everything Everywhere All at once Non gli avrei dato sette premi Avrei preferito una suddivisione Come negli anni precedenti Perché sono dell'opinione Che se non hai di fronte Il Signore degli Anelli O Titanic Forse è meglio dividerli i premi Invece che dare tutto a uno Negli ultimi anni Dicevo dieci anni che non vince Dieci anni Allora aspetta Allora io mi chiedo Era questo il film Per spezzare Questa catena Forse no Anche perché I due film che hanno Preso un bel malloppo di premi Sono Gravity E Mad Max Che però hanno preso Dei premi tecnici Gravity in più ha preso La regia Però non hanno vinto Miglior film O miglior sceneggiatura Quindi Perché appunto L'idea è Non c'è quel film Spacca tutto Perché non ci sono più Dividiamo E quindi giustamente Dividiamo Fa anche meglio all'industria Fa anche meglio all'industria Però La domanda La domanda è Questo è un film Bello Sì Secondo me sì Ma è quel film Spacca tutto No No Però allo stesso tempo Fa bene Un certo tipo di industria Quello sì Quello sì Tu dicevi giustamente Non incazzatevi Allora No aspetta Aspetta ecco Volevo chiudere il discorso Con questo Sì sì vai vai A me è piaciuto Everything Everywhere Everywhere All At Once Tra l'altro titolo Talmente lungo Che lo sbaglio Tre volte su quattro Pazienza E-A-A-O Dillo così Perché La cronima E-A-A-O Mi perdo pure Con la cronima È quella più difficile Esatto Everything Everywhere All At Once Io preferivo The Fabelmans Ok Però non è Che quando È finita la cerimonia Perché poi Io l'ho vista indifferita Non sapevo Chi vinceva L'ho scoperto Ti sei tenuto Nel mistero Bravo Sì mi sono tenuto Il mistero Non è che quando Spielberg non ha vinto niente Ho detto Scantalo Spielberg era il più bravo Spielberg doveva vincere Almeno un premio Gli dovevano dare la regia Non me ne fregate Non me ne fregate niente Che già va bene Come concetto Proprio di base Esatto Non me ne fregate niente Io ritengo Che la bellezza La maturità La La Come posso dire La perfezione Di un film Come quella Come quella Di The Fabelmans Ci vuole molto tempo È una lunga carriera Per raggiungerla Quella perfezione Questo potrebbe essere No potrebbe Magari non lo è Però Sembra un perfetto film Per finire la carriera Esatto Una carriera durata 50 anni Con più di 30 film E tu alla fine C'hai Come dire La ciliegina sulla torta E si stanno al secondo film Esatto Allora E se il secondo film Comunque è questo Cioè Tanto di cappello Tanto di cappello Stavo dicendo Lì c'è la maestria Di Spielberg Allora io Da appassionato Potrei dire Diavolo Ma non lo dai a Spielberg Questo premio Poi qualcuno potrebbe dire Eh ma ha già vinto Spielberg Allora diamola a qualcuno Diamola a qualcuno Che non l'ha vinto Si entra in un Ghirigori Di opinioni E di espressioni E di Sparate col botto Dal quale io Mi tiro fuori E dico Ragazzi A me di litigare O di polemizzare Sul cinema Proprio non mi va Mi sembra un po' Una cazzata Tra l'altro A proposito Di Spielberg Cioè Ah Vince Cioè Doveva vincere Non so se avete fatto caso All'atteggiamento Di Spielberg Durante Non gliene fregava niente Manco a lui Non solo A parte il fatto Che lui aveva detto Pubblicamente In più di un'occasione Di aver molto apprezzato Il film dei Daniels E lui E quasi tutti Cioè Io Abbiamo I ringraziamenti Che ho sentito In tantissimi Hanno ringraziato Spielberg Cioè Tu Stai lì Tu hai un Signore di quasi 80 anni Che è il padre Del cinema americano Moderno Sta lì E quindi L'hanno tipo Tutti ringraziato Cioè Perché appunto È una pietra angolare Del cinema Che fanno quasi tutti Quelli che stavano lì Candidati Quindi Lui sta lì Chiamiamolo così Da grande patriarca Del cinema americano Che aveva proprio Un atteggiamento Come a dire Bravi ragazzi Adesso tocca a voi Cioè io ho già dato Se non si è arrabbiato lui Perché ci dobbiamo arrabbiare Cioè io Io ho visto Non so se hai fatto caso La gioia Che lui aveva Quando Eh Eh E Cicchuan Adesso non mi ricordo Come si chiama Il shorty Per intenderci Ha vinto il premio Cioè è esultato Come se fosse uno Del suo film Perché poi di fatto È uno dei suoi Perché poi Kunis è comunque Prodotto da Spielberg Quindi cioè È uno dei suoi Ehm Cioè Quella roba lì Ti dice Ma fate voi Cioè a me Mi avete messo in concorso E va bene Sto in gara Gareggiamo Ma Adesso il mondo È vostro Cioè perché Ma non Ma non solo Spielberg Cameron Neanche Neanche si è presentato Perché secondo me C'ha cose più importanti Da fare Cameron C'ha 64 avatar Da qui al 2019 Esatto Poi Tom Cruise Non si è presentato Perché neanche voi Io Io ho salvato Come dice Spielberg Io ho salvato Il culo al cinema Ma che me frega a me Esatto Poi Sembra non volesse Vedere Nicole Kid Ma non volesse sentire L'introduzione di Kimmel E quindi ha detto Ma sì Va anche detto Che essendo lui Appunto Un fanatico Di Scientology Ha problemi Con il mondo Cioè Nel rapporto col mondo Un contesto Un intervista Uno a uno Un conto Un consesso Quindi è possibile Che questa cosa Certo Poi Il film tedesco Ha vinto pure lui Tanti premi Il film di guerra Il film Netflix Col maggior numero di Oscar Vinti Ok Poi Probabilmente Gli spiriti dell'isola Non è stato capito appieno Vogliamo Vogliamo dirlo Che dopo Spielberg Forse era il film più bello Vogliamo dire Vogliamo dire Che forse I due film più belli Non hanno vinto niente Allora Io sono Non posso Espormi più di tanto Sugli spiriti dell'isola Però È un film Che Davvero Parla da solo E quasi Chiunque L'ha visto Poi Ne è uscito Con Il cuore Come dire Più forte Perché è un film È un film Complesso Pieno di sfaccettature Come se fosse Una gran Io sono sorpreso Dalle nove candidature Per un film del genere Però Nessun premio Ma sai Quello Però ecco Ma sai Sai che c'è Ma anche sti cazzi Sì Nel senso Come hai detto tu Nel momento in cui tu Perché poi ecco Una cosa interessante Cioè non è che Quello che fa la schedina Per votare Il votante X Che riempie Non è che Gli arriva la schedina E riflette Miglior film Secondo me è questo No Fanno incontri Fanno Cioè Come hai detto tu È una campagna elettorale Ma non solo Le produzioni Nei confronti Dei giurati Anche tra di loro Si incontrano Ci sono delle correnti Allora c'è il gruppo Che sostiene Everything Everywhere Allora fa degli incontri Con gli altri membri Per dire Ma guardate Che questo film è bello C'ha gli attori Ma secondo noi È giusto Che venga premiata Michelle Yeoh È la prima attrice asiatica Eccetera eccetera E così via Per cui poi Alla fine Quando tu hai Discusso E sei arrivato A una risoluzione Come all'interno Dei partiti Allora Catalizzi Il voto Su un film Per cui sai Che quel film Per te È un film Da 5 o 6 premi Quindi gli darai 5 o 6 Voti E via dicendo Sì sì Concordo Cioè non è come Un referendum Capito Sì 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 Sono d'accordo Poi ribadisco Entriamo in un campo Di soggettività totale Quindi magari Ci sarà qualcuno Che vedendo la nostra puntata O ascoltando La nostra puntata Dirà No per me Il più bello era Oppure A proposito di questa cosa Top Gun Top Gun Da oggi Cioè da oggi Da qualche tempo Voi potete commentare Anche su Spotify C'è la possibilità Se andate sull'app Di Spotify Non so se su browser Ma dall'app si può Sotto Alla puntata C'è tipo Cosa vuoi dire Al E quindi potete commentare Oltre che su YouTube Oltre che su YouTube Va bene Dai fammi tu una domanda Io ce ne ho La prima era abbastanza lunga Perché era il topic Quello centrale Quello Quello focoso Il topic centrale E allora ti chiedo No? Quindi Facciamo l'opposto Già un po' hai risposto Cosa ne pensi Dei film lasciati fuori Cioè senza premi E secondo te Perché Questi film Sono senza premi Secondo me The Fabelmans Perché Come hai detto bene tu È il patriarca Spielberg Di tutti gli Oscar Probabilmente E visto che ne aveva Già vinti tanti Nella sua storia Nella sua carriera Hanno preferito Lanciare Dei nuovi fenomeni Inteso come fenomeni Di culto Magari dei nuovi registi Che possano in futuro Ricreare Delle nuove Wave E secondo me Come hai detto bene tu Anche questo Con l'endorsement Proprio di Spielberg Per quanto riguarda Invece Per quanto riguarda Invece Gli spiriti dell'isola Io credo che sia un film Non da Oscar In senso Non che non meritava Gli Oscar Che non è pensato per Che non è proprio adatto Per la cerimonia Anzi Anche qui Come dicevi bene tu Già sono incredibili Le nove nomination Io quando Sono andato a vedere Il film Degli spiriti dell'isola Sono rimasto veramente colpito A livello di scrittura A livello di interpretazione L'ho già detta questa cosa Sembra veramente Un'opera Di Beckett Traslata per il cinema Sì E Anche Resa ancora più Più drammatica Rispetto a un'opera Beckettiana Per questa storia Che si porta dietro L'Irlanda Le guerre interne Le guerre con l'Inghilterra Quindi Non è solo un dramma Teatrale Che serve a riflettere Sulla società di oggi Che serve a parlare Agli amanti del cinema Attraverso le sue bellissime scenografie E attraverso dei dialoghi Incredibili Ma è anche un film Che parla di passato Di dolore Certo Con dei grandi attori Una grande attrice Mi sembra un film Un po' troppo complicato Per la bagarre Hollywoodiana Mi sembra più un film Mi sembra più un film Da festival Questo sicuramente E infatti McDonough Se non ricordo male Vince l'Oscar Con il film precedente Tre manifesti Ebbing Missouri Che invece Era molto più Diciamo popolare Non so se è la parola giusta Però è molto più vicino A un gusto Più di intrattenimento Anche più di intrattenimento Più pop Esissimo Molto peso Nei suoi argomenti Però Messo in scena In una forma più pop Questo era chiaramente Più rigoroso Io ricordo Posso sparare la bomba Bomba Secondo me Tre manifesti A Ebbing Missouri È un film Meno riuscito E meno bello Gli spiriti dell'isola Sono abbastanza Cioè nel senso È un film molto bello Anche quello Sì Però Ha una complessità È più complesso Ricercatezza di suo Che lo rende forse migliore Direi che A livello di intrattenimento Tre manifesti È sublime È spettacolare È spettacolare Anche lì Grandi attori Tutto quello Però mi sembra più bello Da un punto di vista estetico Io credo Che la profondità emotiva E di scrittura Degli spiriti dell'isola Sia superiore No no Sono Sono d'accordo E tra l'altro Fino a qualche tempo fa Di solito Il film Chiamiamo così Intellettuale Cioè il film Che usciva fuori Dai canoni Del film da Oscar Che di solito Invece è un film Più popolare Gli si dava il premio Per la sceneggiatura Manco quello Originale o non originale Non Magari non fino a Poco Insomma fino a Metà degli anni zero Si usava a fare Si usava Questo era proprio Cioè nel senso Per dirti Cioè Woody Allen C'ha avuto Una cinquantina di candidature Per le sceneggiature Magari non candidatarono Nient'altro E le ha vinte pure Midnight in Paris Per esempio Vinse La sceneggiatura Oppure ricordo I Coen Tarantino Tarantino Cioè comunque Avevano Era un film Che magari era Un po' troppo Complicato Diciamo così Per un gusto popolare Un gusto medio Dell'academy Però Gli si riconosceva Quel talento lì E A pensarci Quello era perfetto Poi però Se tu ci pensi Anche il gioco Che magari per noi È un gioco un po' più scoperto Però per uno spettatore Per un pubblico americano No Quello del multiverso Dei Daniels È un gioco molto Complicato Mettere insieme Tutta quella roba lì È stato Ritenuto un gioco Virtuosistico Da premiare Quindi vabbè Ci può stare Però ecco Cioè io ho una domanda Per te Vai vai Adesso Fammela Vai Cerchiamo di essere Più rapidi Perché se noi C'è ragione Stiamo dilungandoci Ci sono tante cose Interessanti L'hai vista Angela Bassett Che non si è alzata Ad applaudire Per il premio Di Jamie Lee Curtis Ha ricordato Un pochino Joy Triviani In Franza Quando si arrabbia Perché Perché non gli danno Il soppi Il famoso Soppi Di Franza Al che ti chiedo Gesto comprensibile Perché uno lì Vuole vincere Quindi lei voleva vincere È arrosicato Oppure Bisogna Recitare Anche in quelle situazioni Allora Il bon ton Dice che reciti Il bon ton Dice che non ti dico Che ti devi alzare in piedi Però Un applausetto Un po' Un po' così Col sorrisino Va bene Però posso capirlo Arrosicato parecchio Arrosi Chi ci sta C'è il senso Il momento in cui poi Un Oscar Magari Ecco La cosa che dico è Se fosse stata Una Emma Stone Cioè una Una più giovane Con una carriera Lanciata Ma ancora Insomma tutta Da costruire ancora L'Oscar Ti può cambiare La carriera Per cui se non lo vinci Io capisco Che ci rimani male L'unica cosa Mi viene da dire È che Angela Bassett La sua carriera Ce l'ha È un'attrice E anche produttrice Una grande Puoi fare Non ti dico che devi fare Come Spielberg Però diciamo Però è comprensibile Cioè se tu ci tieni Perché pensi che quel premio Te lo meriti E ti sei fatta Soprattutto per una cosa Cioè Quello era un film In cui lei doveva avere Un ruolo Neanche secondario Terziario Poi è morto il protagonista E si sono dovuti Reinventare la sceneggiatura E lei è finita Quasi Coprotagonista Del film Per cui dice Se l'aspettava E se ci rimani male Amen Voglio dire Cioè la sportività È un dono Non è un obbligo Concordo Vai Non è che ha sputato Non è che ha detto Guarda sta stronza Non è che ha fatto Come Harry Style Che ha sputato addosso A Chris Pine Che ha sputato addosso A Jamie Lee Curtis Cioè Non era contenta A chi è che aveva sputato Harry Style Chris Pine Giusto Era Chris Pine Chris Pine Ma non era a Venezia proprio A Venezia certo Prima mondiale Non Warry Darling Poi Chris Pine Ha dichiarato Che non è vero Che non gli ha sputato Però qualche dubbio resta Allora E adesso Mono lo so Il filmato Fa vedere lui Cioè Non era un gesto Tipo Quando si sputano I calciatori No Era un gesto più discreto Cioè È girato verso di lui E si vede una roba Che gli cade Dalla bocca Non è addosso È per terra Mi sa Sì Magari Gli ha sfiorato il ginocchio E si vede Chris Pine Che fa una faccia Ma che è sto schifo Ma che è sto schifo Però Pure se fosse Ma saranno a fare loro Cioè Quindi hanno risicato Chris Pine Cioè Chris Pine Harry Styles Ha fatto il cafone E Amen Cazzi loro E adesso faccio la domanda Vai domanda Tu hai visto Hugh Grant Hugh Grant Perdonatemi Hugh Grant Hugh Grant C'ha ragione Io Io non riesco a dargli torto E qui lo dico E non lo nego Allora Per aver ragione È stato fin troppo signore Allora Io 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 capisco che oramai Stiamo nel politicamente corretto Più estremo di tutti Poi addirittura Uomo bianco Di 50 anni Che prende per il culo Una ragazza Una donna Comunque Quindi proprio È proprio L'inglema Del politicamente corretto Se non è afroamericana Comunque ha origini Caraidiche Quindi ci sta Tutto Per creare un polverone Perché Hugh Grant Che è l'emblema Del potere bianco Inglese Degli ultimi 200 mila anni Si permette Di parlare male Alla ragazza Alla donna Di talento Che è stata messa lì Non solo perché bella Ma anche perché brava E come ha detto Emanuele Anche leggermente No Di colore Quindi Ragazzi Ci avete rotto il cazzo Pure qua Poi magari no Ha una mia impressione Che non sia caucasica Dovete smetterla Fatemelo dire Qui conta una sola cosa Il merito Se uno è bravo Bene Se uno non è bravo Non ce ne importa niente Allora Hugh Grant Lo vogliamo dire Che le domande Erano veramente ridicole Erano delle domande Ridicole No 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 Nella mia Non lunghissima Carriera di intervistatore Mi è capitato Di sentirmi rispondere Peggio Per delle domande Non particolarmente intelligenti Ma un po' migliori di quelle Hugh Grant E sta Cioè voglio dire Si vedeva che era in imbarazzo Perché erano delle domande Che non gliene fregava niente Non gli andavano a rispondere Però mi sembra che Si è riuscito a camuffare Con una certa ironia Cioè Io ho visto Ma l'abbiamo visti tutti Esempri di gente Che ha la domanda Scema Ti manda a cacare Esatto Io me ne ricordo Ha fatto delle macce Cioè ha detto delle cose Io me ne ricordo Io me ne ricordo Una Di Francis Ford Coppola Al Festival di Roma Che disse proprio A un giornalista Questa domanda È talmente stupida Che non rispondo L'ha proprio detto Ma poi vabbè Ma sono diventati virali I video Che ne so Di Tarantino Che ha delle domande Sceme Rispondeva Uno bellissimo Di Ridley Scott Intervista A Zoom Che appunto Si stava sotto pandemia Per The Last Duel E gli dicono Ah Il tuo ritorno A una cosa Un po' più realistica Adesso non so Se lui non ha capito bene La domanda Quando non gli diceva Il concetto di realismo Gli ha detto Ma che cosa sta tu Ma il serialista D'Orella Una cosa del genere Lui Da commediante inglese Ha fatto la faccia Del commediante inglese Ha risposto un po' Anche con ironia Cioè non mi sembra Che abbia trattato male Quella ragazza Ho capito Ma allora Prima di tutto L'intervistatrice Non coglie La battuta letteraria Su Vanity Fair Prima cosa Primo aspetto Secondo Si impunta per forza A voler fare una domanda Su Glass Onion Dicendo Quanto ti sei divertito A fare Glass Onion E lui Ho girato 10 minuti Ho girato 3 minuti Trovo difficile Poter parlare Di un film In cui ho partecipato Come cameo Ma ti sei divertito? Ma cosa è così? Poi Insiste Sulla questione Del vestito Che lui Quello però Lei è obbligata Per la questione Degli sponsor Cioè Red Carpet È fatto per esaltare I brand Per esaltare I griff E quindi Sapere che No cioè Lì la domanda Era perché Lei voleva sentirsi dire Che ne so Dior Versace Ho detto Che ne so Ha fatto Il mio sarto Comunque L'intervistatrice Si chiama Ashley Graham Ok Che tra l'altro Se ho letto Ma Se non ho letto male Ha anche risposto A Hugh Grant Dopo la cerimonia Volevo vedere Magari Vado a cercare Mi leggo bene La dichiarazione Alla prossima domanda In cui parli tu Così sono più concentrato Nello scovare La dichiarazione A me dispiace Per Ashley Graham Che tra Per Ashley Graham Scusatemi Ashley Graham Perché secondo me In definitiva Non è che ha fatto Un cattivo lavoro Intervistando Tutti gli attori O le attrici Che le sono passate O passati davanti Durante quel segmento Il problema È che tu puoi fare Anche un ottimo lavoro Ma se ti capita Una persona Che è diversa Dal coro E che magari Non ci sta A rispondere A delle domande Ripeto Un po' Frivole Devi avere Anche l'intelligenza Di andare oltre Cioè di Di lasciar correre Ok Ma quell'intelligenza Tu la puoi avere Se sei appunto Una giornalista Pressionista Quanto meno Qualcuno che è Di quel settore Ha un'esperienza Lei ovviamente Fa un altro lavoro Negli ultimi anni Ha fatto anche Delle conduzioni Ma non è Una giornalista Cinematografica Per cui è chiaro Che l'unica cosa A cui si può attaccare Lei è che È stato in un film Candidata degli Oscar Certo c'è stato Tre minuti Però quella cosa lì È l'unica cosa A cui si può attaccare E poi Cioè la cosa Che Io mi sono andato A rivedere Un paio di volte Il video Comunque Aspetto un attimo A difesa di Ashley Graham Sembra che lei Su Instagram Ha stigmatizzato Dicendo Cioè Ha dato poco peso Alla faccenda E quindi insomma Se così fosse Brava Ashley Veramente Stare a fare Una polemica Sul nulla Brava Qua mi piace La Graham Ha fatto Assoluto perché Anche perché Anche perché dopo Lei teoricamente Avrebbe potuto Confiare questa cosa Invece dire Ragazzi Diamo il giusto peso A tutto Mi sembra Un atteggiamento Ma lei Ma poi Evidentemente Ragazza Intelligente Ma soprattutto Ragazza che La cosa L'ha vissuta In prima persona Si è resa conto Che Sì ok Le domande Non sono state Molte intelligenti Tra l'altro Ho visto anche Delle interviste Fatte da Nostre colleghe C'è un'intervista Che aveva ripostato Eva Carducci La nostra collega Che aveva fatto A Jugend Non mi ricordo Per quale film Comunque Anche con domande Più centrate Sul punto Lui tende Un po' a E lo fa Sempre con quel tono Un po' sbruffone E lei lì Ha capito Che A questa domanda Lui non voleva rispondere Ma non è che L'ha insultata O maltrattata C'è Quindi lei dice Vabbè Amen Comunque Molto bella E questo Per me Sono molto basico Su questo Il mio Quello che Si chiama Male gaze Brava Ashley Vai Fai un'altra domanda Brava Ashley Soprattutto perché Ha saputo Spegnere Questo Fuoco Che era inutile Da tenere Da tenere acceso Brava Spegni Spegni Domanda successiva Ma Eh ma Visto che non c'è Piaciuto a nessuno Dei due Il film Il film tedesco No Niente di nuovo Sul fronte occidentale Ma niente Niente che abbiamo Preso noi Una Una trambata Abbiamo visto male Non lo so Io perché Io te lo dico Tu la sai questa cosa Non è piaciuto Cioè di quelli Che conosco Nella nostra Chamiamola così Bolla cinefila Non è piaciuto Quasi a nessuno No no ma io te lo dicevo Te lo chiedevo perché Io tendo anche con i libri A pormi dei dubbi Verso me stesso Provo a essere autocritico Per esempio Io in queste settimane Sto leggendo Dracula di Bram Stoker Non l'avevo mai letto Quindi mi sto Mi sto rifacendo Con questa lettura E devo dire Che arrivato a pagina 80 Non è che mi stia piacendo Tantissimo Però poi mi fermo E dico Capito ma è sempre Il parere di Riccardo Iannacone Se questo libro Ha fatto la storia Ci hanno fatto sopra Migliaia di adattamenti Ed è visto come uno Dei capostipide Del genere horror Letterario Forse il problema È più mio Rispetto a un problema Oggettivo Quindi mi chiedo Un film che vince Quattro premi Oscar Così importanti Non è che ci abbiamo Visto male noi Punto interrogativo Allora ci sono due cose Una Che è come dire La questione Della distanza culturale Cioè Adesso non so Se l'Europa L'Italia Ha uno sguardo Che è diverso Dallo sguardo Dell'Europa E che è diverso Dallo sguardo Dell'America Quindi probabilmente Un film del genere Agli Stati Uniti È piaciuto molto di più Di quanto possa piacere a noi Per queste differenze culturali Al contrario Penso a un film come Babylon Che in Italia E in Europa È stato molto amato E in America Molto poco E quindi No Diciamo questo E poi c'è anche Il discorso A proposito del giochino Dei premi Di chi vince Di chi perde Dello sport Che Babylon Non ottenga Neanche un premio Oscar Secondo me Ma non solo Che ottenga Tipo solo una candidatura O due Cioè Una roba Ma con questo Siamo d'accordo Vabbè E poi dico E poi c'è anche il discorso Che il fatto che Gli Oscar Siano anche politica E in un momento del genere Un film così Che comunque è spettacolarmente Molto ricco Con immagini Molto forti Con tutta una serie Di valori Produttivi Molto forti E chi parli Della guerra In quel modo In questo momento È appunto Il film giusto Allo momento giusto E per cui Viene molto amato Viene molto riconosciuto E penso anche Al premio A Navalny Come miglior Documentario E lì È un bel film È un bel documentario A Navalny Ma è anche un film Che dice qualcosa Cioè racconta qualcosa Del momento presente Racconta qualcosa Di chi è Putin Nello specifico E quindi È importante Mostrarlo Cioè I premi Oscar Dicono qualcosa Del mondo in cui viviamo E dell'industria americana Nel mondo in cui viviamo Qui sono delle Declarazioni politiche Poi A noi ci fanno arrabbiare Perché sono sotto Forma di Competizione Di gioco Per cui Pensiamo sempre Che sia quello Che sia Più meritevole Un altro Perché se L'Academy Senza premi Divesse Allora Quest'anno Vogliamo Ponzorizzare I film Indipendenti Per cui Viva la E24 Vogliamo donare Soldi A Le produzioni Indipendenti E vogliamo Sensibilizzare Sulla guerra Nessuno direbbe Niente Cioè sono Sono Fasi politiche Però avrebbero Anche poca risonanza Cioè Tu le metti Dentro il carrozzone Della competizione Sono tutti lì A A Farsi valere Dai Facciamo altre due domande A testa Vai Prima te Allora Prima io Ti faccio una domanda Cosa ne pensi Del fatto che I Veri blockbuster Cioè i film Che hanno Riportato la gente Al cinema Dopo un paio d'anni Siano Messi Un po' Ai margini Perché Gli americani Tu sai quanto io Ami gli americani Tu lo sai Io amo profondamente Gli americani Ho fatto due viaggi In America Sono stratifoso Delle squadre Di Boston C'è un qualcosa Che mi lega Profondamente Agli Stati Uniti D'America Però Bisogna ammettere Che gli americani Sono un pochino Ipocriti C'è poco C'è poco da fare Ok Un pochino lo sono Quindi Cosa fanno gli americani In questo caso Con l'industria cinematografica Prima Si fanno salvare Le chiappette Dai film blockbuster Come Avatar E Top Gun Poi Per sdebitarsi Li candidano Come per dire Hai visto Ti ho candidato Ci hai salvato Le chiappette E io te lo faccio vedere Lo faccio notare Al mondo Che mi hai salvato Le chiappette Perché In un'altra epoca Quei film Manco li candidavano Perché visto che L'industria era in salute Non andavano a candidare Top Gun Maverick Però visto che Quest'anno Top Gun Maverick Ha salvato Le chiappe a molti Lo candidano Agli Oscar Però è qui Che arriva l'ipocrisia Io ti candido Lo faccio notare A tutti Che mi hai salvato Le chiappe Ma se devo dare Poi il premio Io devo rimanere Liggio Alle mie regole Al mio mondo Al mio modo di essere E quindi Premio Il film Orientale Che poi Orientale Non è Come Parasite Perché Parasite È molto meno orientale Di quanto si voglia dire Perché il regista Comunque Ha lavorato con tanti Attori americani E ha un modo di fare cinema Ha un modo di fare cinema americano Certo Quindi Sempre quel modo Quanto meno La produzione lì È la sudcoreana Questa è una produzione americana Sì Però In entrambi i casi C'è un sapore orientale In questo Certo Però in entrambi i casi Anche se molto diversi Tra loro C'è un po' Quel modo di fare Paraculo Dell'industria americana Cinematografica E allora Loro cosa fanno? Ok Ti do la visibilità Però al tempo stesso Poi vado a premiare Il film Orientale In questo caso Everything Everywhere Everywhere Aridaglie che ho sbagliato il titolo Everything Everywhere Everything Everywhere All at once Come in precedenza Sono stati premiati The Millionaire Come in precedenza È stato premiato Moonlight Quindi C'è questo modo Di fare Hollywoodiano Che io Non riesco Ad amare Però almeno sono E qui Chiro fuori Sanremo di nuovo Io almeno Personalmente Sono Come posso dire Mi sfugge il termine Però insomma Non mi piace Questo modo di fare Quanto meno Non mi vedo gli Oscar La notte In prego Contro il televisore Ah beh No certo Non so se mi spiego No certo Uno deve essere Coerente con se stesso Va bene Sanremo Io Non lo vedo Non mi fa impazzire Quindi Non sto lì poi A scrivere Sanremo Sti cazzo di Sanremo Tutto magna magna Esatto Idem Gli Oscar Oramai io Non li vedo In diretta Da parecchi anni Me li recupero In replica Perché ho Sky Però insomma Non sto lì A farmi Il fegato amaro Proprio perché Non capisco Il modo Di ragionare Loro Io Ecco Qui faccio L'unica provocazione Della 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 puntata Ok L'unica vera Polemica Della puntata Ci siamo Jerry Polemica Jerry Polem Secondo me Se devi fare un contest Cinematografico Dove si devono premiare I film Ok Dove si deve premiare L'arte Andrebbe premiata L'arte Non la politica Questo è il mio parere Però pure lì Loro Loro premiano La politica Cioè Nel senso Poi È anche difficile Scindere le due cose Perché Aspetta L'arte Fina a se stessa Come la giudichi C'è sempre Quali C'è una differenza C'è una differenza sostanziale È vero quello che dici tu Che non puoi scindere La politica Dall'arte Se sono unite Però è anche vero Che ci sono molte forme Di arte Tra cui anche Quella cinematografica Che non prevedano Per forza La politica Non so se mi spiego Ci sono diverse Lì la questione Che Come dici tu Il modo in cui si votano Il modo in cui Vengono Ma anche il motivo Per cui sono nati Gli Oscar Ha a che fare Con la politica E quindi È normale Che poi Allora Poi può capitare Che per la politica Del momento Si premino Dei capolavori Anni 60 C'è Lorenzo Arabbia Vabbè Lì non dice niente Nessuno A seconda Dei momenti Storici Però è Cioè È proprio Impossibile Come fai a dire Arte pura Beh Per esempio Titanic Non c'entra niente Con la politica No no Infatti Infatti Però c'entra Con la politica D'industria Si Però io parlo Di politica Vera e propria Io parlo proprio Di messaggio Politico E fettivo Si 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 Ok ok Ho capito che intendi Ci sono alcuni Moonlight È un film Premiato Per un aspetto Totalmente Politico Si è preso Un film Che era nettamente Superiore Che era La La Land E lo si è Sacrificato Sull'altare Di una battaglia Politica Che vedeva L'industria americana Contro Trump E contro tutta Una situazione Purtroppo Drammatica Degli afroamericani Nel territorio Americano Che è una battaglia Giusta Io sono Tra l'altro Uno dei miei personaggi Preferiti a livello storico È Malcom X Io Ci ho fatto anche una tesi Sopra Malcom X Una tesi di laurea Quindi figuriamoci Io Proprio sono Il primo Il mio giocatore preferito Di basket Tu lo sai È Bill Russell Che ha marciato Al fianco Di Martin Luther King Quindi se c'è uno Che capisce Questo argomento Fida di Emanuele Sono io Però Questo discorso Che il cinema Deve premiare In base al messaggio E non in base Alla fattura Dell'opera Io non l'ho mai capita Onestamente Ok Però a questo punto Ti dico Anche qui La differenza Come dire Le migliaia di chilometri Di distanza È l'oceano Che ci separa Moonlight In America Al di là Del suo valore Di portavoce Di Cioè Anzi Cioè Di megafono Di una serie di voci Che non è solo La voce Degli afroamericani Ma anche Della comunità Omosessuale Afroamericana Che è particolarmente Discriminata All'interno Della stessa Comunità afroamericana È stato recepito Non solo come un film Che ha portato Dei valori Ma anche un film Che aveva Come dire Una questione Di linguaggio Di produzione E infatti Il film poi Era produzione E 24 Che dava Un passo di novità Cioè Il modo in cui L'abbiamo recepito Noi dall'Europa È molto diverso Dal modo in cui L'hanno recepito Dall'America L'ho capito Ma quello è un film Che vince Per il suo forte Impatto sociale Ne cito un altro 12 anni schiavo È un film Che secondo me Artisticamente Artisticamente Non meritava Di vincere Il premio Come miglior film Eppure L'ha vinto Perché socialmente Politicamente Parlando Aveva un peso Specifico Per gli Stati Uniti Di quel periodo storico Ecco Questa è la mia È la mia Polemica Però Vada bene Io non sto lì A dire Bastardi E poi vado la sera La notte A vedermi gli Oscar Io mi sveglio La mattina Do un'occhiata Su Sky Vedo chi ha vinto E poi Come ti dicevo prima Sti cavoli Insomma La mia vita Va avanti comunque Però mi chiedo A me se non concesso Che il discorso Sia giusto Cioè Che Don Gianni Schiavo Moonlight O altri casi Perché poi Nel pieno Cioè Nel pieno La storia di Hollywood La storia degli Oscar Siano Dei film Il cui valore politico Sia superiore Al valore artistico Quindi il motivo Per cui non ho premiato Però mi chiedo Però magari Gli Oscar Servono anche a questo Cioè Servono a mettere In mostra Determinate cose Che altrimenti Farebbero più fatica Non dico che Sia una strada giusta O sia sempre Una strada giusta Però Se dare un premio Moonlight Significa Mostrare una realtà E Portare Degli spettatori A interessarsi A essere sensibilizzati Io l'ho capito Il tuo discorso Però Non giriamo Intorno alla mela Perché altrimenti Poi Veramente Facciamo un podcast Di due ore E alla fine Stiamo sempre a dire La stessa cosa Ti faccio l'esempio Dell'anno precedente Va bene Vado indietro Di un anno Coda Va bene A me è piaciuto Io mi sono divertito A vedere Coda Ho pianto Alla fine Certo Il film Coda Quindi se tu mi chiedi Come Riccardo Giannacone Ma a te Coda Ti è piaciuto Risposta Sì Poi Se dobbiamo fare un contest Sulla bravura artistica E sulla bravura Che un regista Riesce a mettere All'interno di un'opera d'arte Mi chiedo Ma come fa A vincere Coda E non laico E non laico rispizza Perché Che coda A livello politico È più importante C'è poco da fare Quindi D'accordo Torniamo a dire Torniamo a dire Su questo sono d'accordo Il discorso Aspetta Fammi finire Fammi finire Chiudo rapidamente È il discorso Che abbiamo fatto All'inizio della puntata Sì Loro Offrono uno spettacolo Danno delle regole A quello spettacolo Le regole Del loro show business E sono chiare Quelle regole Se non ti vanno bene Non ti guardi Lo spettacolo Fine della storia Secondo me È inutile Secondo me È inutile Secondo me È inutile Incazzarsi Con gli Oscar Perché premiano Coda Moonlight O in questo caso Everything Everywhere È inutile Incazzarsi O accetti Le loro regole E te lo vedi Oppure Come faccio io Con Sanremo Non te lo vedi Fine della storia No no ma Io su questo sono d'accordo Cioè io sono Assolutamente d'accordo Peraltro poi Nel corso Delle ultime settimane Ho fatto una serie Di live Per il canale Di Stream World In cui abbiamo raccontato Con vari ospiti La storia degli Oscar E tu vedi che Ci sono delle ondate Cioè ci sono Cioè il decennio In cui Ha importanza Il film politico Il film che viene premiato Anche per meriti politici Soprattutto per meriti politici E invece poi Gli altri momenti Della storia In cui magari Sono più a posto Si credono più a posto Con la loro coscienza E quindi si premia Il grande colosa Cioè I pochi che sia Gli anni trenta Saranno gli anni Di un altro tipo di cinema premiato Questo Sono d'accordo con te L'unica cosa Che io mi chiedo È Questa cosa È vera Cioè Questa come dire Questa separazione Al di là Della soggettività Della separazione Però mi chiedo Però magari Avere una base politica O perlomeno premiare Alcuni figli Per il loro valore politico Non è necessariamente Non è necessariamente Un male Però No Io sono d'accordo Su questo Non mi fraintendere Io sono d'accordo Ma ho capito Quello che intendi Io sono stra d'accordo Anzi io sono uno Sono una persona Tu mi conosci Emanuele Io ho degli ideali Ho degli ideali Molto forti E combatto Spesso per quegli ideali Anche ideali scomodi Quindi Benvengano le battaglie E benvengano i film Che attraverso l'arte Ci mostrano Quelle battaglie Da seguire Da compiere Io dico semplicemente Che un premio Una medaglia Andrebbe data Al film Più bello A prescindere Dal Dalla tematica Che si affronta E quindi Se Spielberg Ha fatto il film Più bello Perché Quasi diciamo Non oggettivamente Perché è sbagliato Ma quasi oggettivamente Lo si può quasi definire Secondo me Premiare un altro film Per questioni O tematiche O sociali O di Direzione Che sta prendendo L'industria Secondo me è sbagliato Detto ciò Loro fanno In quella maniera Il giocattolo È il loro Non è il mio Non è il tuo Non è il nostro Di conseguenza Se io avessi un giocattolo In mano Ti faccio un esempio Io gestisco Con altri colleghi Una casa editrice Nessuno può venire A dirmi Come devo dirigere La nostra casa editrice Ok Quindi io rispetto Rispetto profondamente Il modo gestionale Degli Oscar Magari non lo condivido Ma lo condivido Magari lo condivido Ma non lo comprendo Fino in fondo Ecco Però detto ciò Farci sopra Delle polemiche Anzi stiamo sprecando Pure troppo tempo Ci stiamo sprecando Troppo tempo Sopra Dai vai Fammi l'ultima domanda Così poi ci facciamo La rubrichetta Ti faccio l'ultima domanda E ti chiedo Ma non è che gli Oscar Hanno bisogno Del classico Tipico Scandalo Annuale Perché quest'anno Non ci sono stati Scandali Non c'è stato Niente E devo dire Io che me lo sono Sorbito tutto Una noia Talmente Profonda A livello di show Di spettacolo Che quasi ero contento Quando tornavano in studio Per far parlare Canova Quindi Una noia Veramente infinita No perché teoricamente Quando parla Canova Comunque è meglio Di un sacco di altre cose Sì No Quello Ecco qui La mia provocazione Voleva dire Di solito Anche quando tu vedi Anche a proposito di sport Quando tu vedi Un evento sportivo Di solito Quando tornano Nello studio È perché devono riempire I vuoti Devono riempire Le pausole Ecco Quando è più divertente Lo studio Dell'evento C'è qualche problema Devo dire Ecco Quest'anno È mancato Lo schiaffo Di Will Smith È mancato Oh mio Dio Ci siamo sbagliati Non ha vinto La La Land Ha vinto Moonlight Insomma È mancato Il grande Cantalone Che andava A scuotere Le fondamenti E devo dire Eh ma si è fatta sentire Questa mancanza Tu come Tu come la vedi Allora come la vedi Io sto pensando Che a un certo punto Uno dei motivi Per cui ho smesso Di guardarle in diretta Al di là dell'età Che mi faceva Fatica Andare a letto tardi Eccetera È che ho cominciato A percepire Quelle cerimonie Come noiose Mentre fino a qualche anno Prima Percepivo come divertenti Allora mi Mi pongo la domanda Ma non è che Ora al di là Di andare Più o meno Non è che sono sempre State noiose E solo perché Eravamo più giovani Più appassionati Le ripetevamo divertenti Poi magari che ne No Cioè Kimmel sarà stato Meno bravo Di altri O viceversa Cioè Ogni indizione Poi c'è gli altibassi Ti interrompo Ti interrompo Trovo Quel mamozzone lì L'unico conduttore Che mi ha fatto Scompisciare Dalle risate Per la sua scorrettezza E per la sua lingua Biforcuta È stato Ricky Gervais Ai Golden Globe Di qualche anno fa E infatti Non lo vogliono più Neanche Vedere in copertina Giustamente Ma è così però Torniamo al discorso Di prima Conta la bravura È più facile Però voglio capire Conta la bravura O conta il compitino Perché Jimmy Kimmel È veramente Un anestetico È un sonnifero Jimmy Kimmel Non 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 offende nessuno Sta dentro lo spartito Sta dentro la cornice Ma due palle infinite Ricky Gervais Scorretto Insulta Denigra Fa un bordello Però è bravo Però sa fare il suo lavoro Però Renderebbe una cerimonia Attiva Adesso Io adesso Non ho bene Il paragone Soprattutto con gli ultimi anni Perché appunto Vedo alcune immagini Vedo gli ai Però quello che ricordo io La grande differenza È che Pur durando quattro ore Anche all'epoca E le cerimonie Erano costruite come spettacoli Quindi c'erano i premi Dentro una cosa Che erano Gag Scenette Messe in scena Sia in montaggio Quindi poi realizzate No? Quindi c'è gente che scriveva Delle gag Da realizzare fuori dagli studio Fuori dalla diretta Sia sul palco Oltre poi ai numeri musicali Che vabbè Quelli ci sono stati anche quest'anno Cosa che invece mi sembra Che non ci sia più Cioè al di là del monologo O al di là Dei singoli presentatori Che possono essere più o meno brillanti È semplicemente una carrellata Di premi E di momenti Il momento In memoria Eccetera Quindi è chiaro Che Quattro ore Di tic 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 Stendi Un caprone Con i Golden Globes È più facile I Golden Globes Sono più secchi Cioè durano Due ore Due ore e mezza L'atmosfera è molto più informale Perché sono tutti al tavolo A mangiare bene E quindi è più facile Fare una cosa Però capisco pure che In un momento in cui Gli ascolti degli Oscar Al di là di quest'anno Sono in calo Spenderci soldi Per fare lo spettacolone Negli anni 90 È controproducente Certo Quindi io credo che sia Questo E quindi se c'hai lo scan Però comunque Penso una cosa Guarda su Twitter Tutti comunque parlano di tutto Proprio perché siccome sentiamo Questo bisogno di scandalo Siamo pronti a trovarlo ovunque Per cui Hugh Grant che fa la faccetta Oh mio Dio Scantalo Tutti amo Per due ore su Hugh Grant Angela Bassett Che palle che ho perso Oh È una vergogna Devi finire in galera E tuttiamo tutti Per un anno Su Angela Bassett Perché ci abbiamo voglia Noi stessi di Scantali E con Blod E con Blod Poi non ne parliamo Con Blod Con Blod Ci piace Con Blod Con Blod Con Blod Negli anni ho sentito parlare Di una decina di lobby Che sta lì a decidere gli Oscar C'è la lobby dei neri La lobby degli ebrei La lobby dei gay Questa è la lobby dei cinesi L'anno scorso C'è la lobby dei sordi La famosissima lobby dei sordi Che C'è Fatica a capire come fa a fare lobbying Quelli non parlano Non c'è la lobby degli italiani Però mi sembra C'è stata negli anni settanta Col padrino Poi dopo Se è andata via Si è disinteressata All'argomento Andiamo Senti Io mi sono un po' stancato Di questi obbligo Bravo Passiamo là Basta Cioè io mi chiedo Quelli che hanno fatto Le dirette su Twitch Tanti colleghi Colleghi di Screen World Movie Player Ma Cosa ci Cosa dici per sei ore Allora Emma Noi abbiamo i nostri scheletri Nell'armadio Noi abbiamo fatto due o tre anni Di dirette radiofoniche Esatto Due o tre anni Di dirette radiofoniche Se ci ripenso adesso Mi viene il mal di pancia Però ci siamo divertiti Sì Ci siamo divertiti Tra di noi Però ragazzi Lo possiamo dire Gli Oscar Due paure Citando Il caro Foster Wallace Una cosa divertente Che non farò mai più Io te ne cito un altro Guzzanti Che fa l'imitazione Di Funari Pace all'anima sua E dice la famosa Dice la famosa Battuta Me le hai piallate Come le bambole Eh purtroppo Gli Oscar lo fanno Sì Cioè noi in un'ora e un quarto Stiamo raschiando il fondo Del barile Bravi loro Cioè sicuramente Bravi loro Perché secondo me Bravi loro Sicuramente bravi loro Secondo me noi Anche se Cazzeggiando Probabilmente ci piace Arrivare più al nucleo Del Degli argomenti Invece l'Oscar Gli Academy L'Academy Awards Gli Oscar Sono perfetti Per rimanere in superficie Certo Ah la resurrezione Di Fraser Ah il film Dei fratelli Dei fratelli Dei due Dei fratelli Non fratelli Dei Daniels Ah finalmente C'è Milicartis Ah Guillermo del Toro E si rimane Sempre su quella patina No In superficie Sì Dove anche il gossip Dove anche il gossip Fa la sua parte Certo Probabilmente Probabilmente Una testata Importante Che va a fare Una live Di quel tipo Ci campa Anche su quegli ingredienti E quindi Io Invece noi Che amiamo Cazzeggiare In maniera più Dinamica E scendendo Più in profondità Dopo un po' Ci divertiamo meno A cazzeggiare Sugli Oscar No Poi un conto È se le guardi le cose in diretta Un conto È se ci devi ragionare a freddo Ma chi gli va Esatto Andiamo Andiamo con la rubrighetta E infatti Mi diverte di più La rubrighetta Bene Bene così Cominci tu Comincio io Vado io rapidamente Allora Vai Consiglio Due serie E un film Parto dal film Sono tornato al cinema Per vedere Scream 6 Oh E devo dire Che mi è piaciuto E anche parecchio Ma io ho sentito Parlar bene da tutti Allora Il quinto Per me era una fetechia Espo d'accordo Il sesto invece Il sesto invece Ha due tre cose Che funzionano Veramente alla grande La prima Cosa che funziona Il primo elemento Che funziona È che ci sono Tre quattro sequenze Veramente top Le vado ad elencare Velocemente Ghostface Che per la prima volta Impugna un fucile E prova ad uccidere Le due sorelle Dentro al drugstore Secondo momento Dentro la metropolitana Tutti con le maschere Di Ghostface E quella sensazione Molto new yorkese Io a New York Ci sono stato due volte E ti posso garantire Che ti sembra Veramente di stare Dentro la metro Di New York Terzo momento La battaglia epica Tra Ghostface E Courtney Cox Morirà? Non morirà? Non vi posso dire nulla Però ti posso dire Che è stato uno Dei duelli Più belli Tra un personaggio Di Scream E Ghostface E per concludere Un altro momento Che secondo me È fantastico Questa scena Con due case Comunicanti Con questa Scala in mezzo E Delirio Si salvano Non si salvano E per concludere Scusa C'è un quinto momento Vai L'intro Forse Non ti dico La migliore intro Della saga di Scream Ma sicuramente La più originale Perché attenzione Per la prima volta Nella saga di Scream Dopo che Ghostface Ammazza La prima vittima Si leva la maschera E fa vedere Chi è All'inizio del film E questo Mi riempie Il cuore di gioia Perché mi ricorda Il tenente Colombo La più grande serie tv Mai concepita Da essere umano E poi però Bisogna capire È l'unico Ghostface Ce ne sono altri Certo Poco importa L'unica cosa È che A livello di originalità Che tu stai lì Ghostface Uccide la prima vittima Leva la maschera E si fa vedere in volto È top È top Ma certo No guarda Avevo letto Delle cose in giro Me l'hai venduto Quindi quando torno Quando torno in Italia Lo vedo Chiaramente Avrei potuto anche vedere Il cinema qui del festival Perché anche qui è uscito Sono che doppiato in spagnolo Non mi sembrava proprio No No Chiaramente è un film Di intrattenimento È uno slasher Segue determinate regole È una sorta di Finto blockbuster Perché poi non c'è il budget Però È comunque un prodotto Da popcorn e coca cola E c'è un'altra cosa Che voglio sottolineare Nel quinto film È quello che vogliamo Da un film del genere poi Esatto E secondo me Tu sai quanto io Sia amante Tu sai quanto sia amante Della saga di Scream Certo Tu sai quanto io Abbia sofferto Nel dire che il quinto Non mi era piaciuto Per niente Anche qui Puntata dedicata Andatevela a recuperare Sì si con ospite Matteo Fantozzi Se non ricordo male E E Simone Scafidi Che è ancora Esatto E E niente La cosa che volevo aggiungere Che secondo me è molto interessante Da fan di Scream Finalmente felice Di rivedere Uno Scream Che mi piace tanto Non succedeva dal terzo Ne approfitto per dare La mia personale classifica Al primo posto il terzo Al secondo posto il primo Al terzo posto il secondo Al quarto posto il sesto Al quinto posto il quarto E al sesto posto il quinto La cosa che mi è piaciuta molto È che uscendo di scena Sidney Prescott Quindi Neff Campbell Le due protagoniste Che sono Melissa Barrera E Jenna Ortega Tara Carpenter Sam Carpenter Finalmente sbocciano Soprattutto La Barrera Che mi era veramente sembrata In difficoltà E appannata Nel quinto capitolo Finalmente si prende la scena Perché è la protagonista Mentre se hai a fianco Neff Campbell Che è la Final Girl Per eccellenza di Scream È difficile È difficile prendersi la scena Capito? Eh sì Eh sì Quindi qui senza Neff Campbell Le due Carpenter Come personaggi Emergono in tutta la loro forza E quasi riesci a vedere Che oramai il franchise Si è davvero rinnovato Non ha più bisogno Non ha più bisogno dei personaggi del passato E può rilanciarsi Attenzione Io appena finito il film Ho detto alla mia compagna Voglio il 7 Perché oramai Sembra che hanno imboccato la strada giusta Ok? Ok Per quanto riguarda le serie tv Ne cito due La prima è un Non è un guilty pleasure Perché la serie è fatta veramente bene Ed è un documentario calcistico Ed è Real Madrid Hasta el final Si trova su Si trova su Apple Quindi è un prodotto Apple TV Ed è praticamente il documentario Sull'ultima stagione trionfale del Real Madrid 2021-2022 Con il Real Madrid Che ha vinto una Champions League Incredibile Rimontando in tutti I vari scontri I knockout No? One to one Ha battuto Rimontando Paris Saint Germain Manchester City E Chelsea Una campagna europea In Champions League Epica E infatti Apple TV Ci ha fatto il documentario sopra Fatto veramente Molto molto bene Per chi ama il calcio O è tifoso del Real Madrid Secondo me Un'opera da non perdere Ci aggiungo anche CSI Vegas Il ritorno Il ritorno Tu sei un grandissimo fan Io sono un grande fan Di CSI L'originale Del vecchio Las Vegas Con William Peterson E Ted Dunstan E loro Loro Torna William Peterson Georgia Fox Ma c'è 90 anni William Peterson Eh bravissimo Torna Ce la fa Torna ed è bravissimo CSI Vegas Signori Non solo CSI Non perde smalto Ma si rinnova Sta al passo Con i tempi Ma sempre Con quel suo Con quel suo stile Riconoscibile Veramente Chi adora CSI Non può Non recuperarla Sia lodato CSI Las Vegas Guarda Mi hai fatto venire in mente Che voglio Oltre appunto Vedermi CSI Perché è una serie Che mi piaceva moltissimo Solo Las Vegas Le altre erano Decisamente inferiori Voglio andermi a recuperare Il revival Di Low and Order Che è un'altra serie Che io amo tantissimo E che sono tornati Dopo appunto Cioè Hanno fatto 20 stagioni Interruzione Sono tornati E pare che sia All'altezza Perché sai Sono dei meccanismi Tantemente Forti e vincenti Che il tempo Non è che li sta lì A rovinare Cioè possono funzionare Oggi Come 20 anni fa Come fra 20 anni E quindi Questa cosa Mi ha fatto venire in mente Che me la devo recuperare Hai altri consigli? No Mi fermo qui Volevo solamente aggiungere Che per chi volesse Recuperare O vedere CSI Vegas Si trova in Italia Su Nao TV O su Sky O su Sky Allora io consiglio Un film E una serie Il film che consiglio È Akira Il grande Classico Dell'animazione giapponese Capolavoro Il grande Capolavoro Dell'animazione giapponese Che per 35 anni Tornato in sala Restaurato In 4K Ed è ancora una cosa Da Da sbaragliare tutto È un film Che all'epoca Cioè È tipo Il colossal Dell'animazione giapponese Per eccellenza All'epoca costava 10 volte di più Quello che costava Un film medio Ci sono Praticamente Tutte le case Di produzione Giapponesi Si sono dovute Mettere insieme Per farlo E' nascito Fuori un film Che ha influenzato Tutta la fantascienza Successiva Non solo Anche tutta L'animazione successiva Se non l'avete visto È inutile Che vi Se l'avete visto Non ve lo devo rappresentare Ma se non l'avete visto È inutile Che vi Sprevo parole Perché è proprio Una roba Di una potenza Concettuale e visiva Che è ancora oggi Sconvolgente Quindi Se trovate al cinema Nella versione 4K Andatevelo A vedere lì Oppure Si trova in Blu-ray In un video Se non sbaglio Non è Nelle piattaforme A noleggio in Italia Però controllate Che potrebbe esserci E invece La serie che consiglio È Irma Vep Se volete poi Se vi interessa Su YouTube Sul mio canale Ne ho fatto anche un video Per raccontarla Praticamente Olivier Sayas Grande regista francese Aveva fatto Negli anni 90 Nel 96 mi pare Un film Che si chiama Irma Vep Che era ispirato A un serial Degli anni 10 A un serial Mundo francese Degli anni 10 Su i vampiri Questi vampiri Che non erano Dei vampiri Che mordevano il corpo Era il nome Di una banda Di ladri Quindi Lui fa Negli anni 90 Un film Ispirato A quella Quella serie lì Negli anni 2000 Fa una serie tv Che racconta Perché poi è tutto Metacinema Cioè lì si racconta La produzione Del film Tratto dalla serie Qui si racconta La produzione Seriale Per HBO Max Della serie tv Ispirata al film Ma è ispirata Anche al serial Degli anni 10 Quindi Un gioco Di incastri È un lavoro Intanto di Scritture E di attori Straordinari Di riflessione Su che cosa Significa oggi Raccontare Per immagini Tanto al cinema Quanto in tv E il Come dire I vari livelli I vari piani Di narrazione Quindi Il set Il set Dove si gira La serie La serie Mentre viene Girata E realizzata Anche dei flashback Del passato Del regista Della vecchia serie Cinematografica Degli anni 10 I personaggi Che Come delle Matrios Che le proprie Diventano Come dire Passano gli anni E diventano sempre Qualcosa di diverso A seconda Delle epoche storiche Insomma Un'opera Di grande complessità Ma che è anche Freschissima Cioè Non è mai complessa Non stai mai lì A capire Che cosa mi sta dicendo Cioè Una grande fluidità E soprattutto Quando Si mette in scena Nel passato È una serie Straordinaria Che viene quasi Voglia di vedere La serie Che stanno girando Più che la serie Che poi Stai vedendo Una grande serie Irma Vep Di Olivier Assayas E anche quella Si trova su Sky TV E Now Perfetto Io Chiudo anche Dicendoti Che ho finito Il romanzo Di Stephen King The Outsider Molto 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 Bello E ho cominciato A guardare La serie TV Su Now Sempre su Sky Fatta Veramente Veramente Bene Uno dei prodotti Seriali Legati All'universo Letterario Di Stephen King Uno dei prodotti Migliori A livello Di serie TV Io recentemente Ho visto invece La storia Di Lisi Che dal punto Televisivo Non è il massimo Della vita Eh vabbè ma lì Il problema È il regista Lì il problema È che l'hanno scritta Coi piedi Il regista Ha detto Beh fate quello Che posso Mi date una barca Sai quando Un regista È sopravvalutato C'è poco Da fare Sai quando un regista È un grande regista E qui c'è qualcuno Che ha scritto un libro Per dimostrare a te Riccardo Che Pablo Arraina È un grande regista Guarda mi sono dimenticato Di metterlo nella dedica Mo scrivo All'editrice Senti Visto che ancora Non è pubblicato La dedica È a Riccardo Così cambia idee Va bene Accetto la sfida Sai che sono Capace di cambiare Opinione Non ho problemi Ah lo so Di cosa Parliamo la settimana prossima Ancora non lo sappiamo Non lo sappiamo A me A me piacerebbe fare Quando non ci sono argomenti Facciamo qualche puntata Monografica Io lo Lo diciamo dalla prima stagione Per esempio A proposito di Stephen King Perché non facciamo Una bella puntata Sui grandi adattamenti Legati a Stephen King Oppure Una monografia Su Totò Ma parliamo Del più grande attore Vivente Vivente Del più grande attore Di tutti i tempi Non più vivente Ovvero Totò Facciamo una roba Facciamo una roba social Anzi Vivente Perché Totò è immortale Non muore mai Facciamo una roba social Visto che potete Commentare Tanto su Youtube Quanto anche Praticamente su Spotify Rispondete alla domanda Ammesso che non troviamo Un argomento Di cui parlare Da qui Ammesso che siete Arrivati alla fine Dell'episodio Ammesso che non l'avete Staccato prima Giustamente Vi capiamo E Sono ragioni Monografia su Stephen King O monografia su Totò Diteci la vostra Dai Ovviamente Ditecelo A breve Non è che potete dircelo Il giorno prima E noi ci inventiamo cose Con una certa velocità Il vincitore Il vincitore avrà l'onore Di una puntata Noi dedicati Io già vedo Stephen King Che sta a dire Ma chissà se vincerò con Totò Non lo so Poveratto È un brutto Brutto cliente Totò Un brutto cliente Buon Buon pomeriggio Visto che per il pomeriggio Rick Un abbraccione Alla prossima Un abbraccione a tutti Alla prossima Viva il cinema sempre